Quali sono i risultati dell'indagine che avete realizzato sull'artrite reumatoide? Questo lavoro che abbiamo condotto anche direttamente con l'associazione dei pazienti ci ha consentito di identificare o meglio di ribatire quali sono le difficoltà nella presa in carico di un paziente affetto, anzi di una persona, con malattia reumatica in particolar modo con arti reumatoide. Sono emersi i bisogni insoddisfatti delle persone con malattia con arti reumatoide sono emersi anche le difficoltà che noi reumatologi abbiamo nel integrare tutti i diversi aspetti della patologia e rispondere alle necessità, alle esigenze, non solo in senso stretto farmacologico ma anche nella presa in carico psicosociale del paziente con arti reumatoide e si cerca quindi di condividere un percorso comune per poter migliorare la presa in carico dei pazienti affetti da arti reumatoide con l'uso della telemedicina, intelligenza artificiale, una maggiore condivisione di principio e poi anche di fatto della presa in carico appunto delle persone affette da arti reumatoide. Questo è un laboratorio di estremamente interesse perché ovviamente potrà essere poi esteso alle altre malattie reumatiche. Esiste un problema di accessibilità alle cure? L'accessibilità alle cure è parte integrante. I limiti che possono essere sì rilevati oppure misurati in termini di sostenibilità sono solamente uno degli aspetti. Il problema è personalizzare la cura, non è che vi è una carenza o una mancata accessibilità. Il problema è che bisogna identificare la persona da cui prendere in cura, di qual è la terapia personale migliore per il paziente e le cure sono sicuramente disponibili. Sia le cure tradizionali, le nuove cure adesso disponibili dei nuovi farmaci tentano di colmare alcuni gap che tutte le terapie generalmente lasciano.